Ciao a tutti, bentornati con un nuovo video tutorial di Nell'Art in un minuto. Se vi piace mettete un pollice in su, seguite tutti i passaggi per capire come si fa. Come primo passaggio applico la base e lascio asciugare. Vado a stendere in uno strato sottile, quindi una prima passata di smalto, questo è il numero 31 di Debbie, un rosa pallido davvero molto molto carino, e lascio asciugare bene. Sempre con lo stesso smalto, adesso applico una generosa passata e senza fare asciugare, prendo lo smalto numero 14 di Debbie, e inizio semplicemente con il pennellino lasciar cadere delle piccole gocce che man mano si allargeranno. Adesso vado a tracciare il puntino al centro del fiore e altri puntini laterali sul fiore. L'ultimo passaggio sarà quello di applicare il top coat per fissare il tutto. Ragazzi il risultato finale della nail art sarà questo, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate, se realizzerete anche voi la nail art taggatemi su Instagram con l'hashtag roslion90, pollice in su se vi è piaciuta la nail art e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!